Non c'è via Sparano che tenga se ci sono gli attentati nei confronti dei carabinieri, della gente comune, un clima dove tu non sai se girando l'angolo potrai superarlo indenne. Un tema serio, ripeto, più volte l'ho sollevato. Continuo a dire che secondo me il presidio dei quartieri mediante la Polizia Municipale è un deterrente importante. Ripeto, non si tratta di armare la Polizia Municipale sostituendola alle forze dell'ordine. E' chiaro che ci sono due compiti diversi ma la prevenzione passa attraverso la presenza. Non capisco perché il sindaco ancora si ostini a non voler prendere atto della necessità di un intervento che può anche diventare strade sicure. Io ne ho parlato proprio con il ministro Piantedosi, ma prima delle strade sicure c'è un'amministrazione che voglia in concreto offrire ai baresi una chance di maggiore sicurezza.